Si ferma, dopo due vittorie consecutive, il cammino virtuoso della Sancataldese nel girone I di Serie D. La squadra Verdamaranto deve arrendersi al Canicattì che, grazie alla vittoria di misura arrivata nel finale su calcio di rigore, si è giudicato il pomeriggio del Saraceno di Ravanusa. La formazione di Pidatella ha avuto la meglio dopo 90 minuti di equilibrio, con la Sancataldese finite 9 uomini a causa dell'espulsione nella ripresa di Touret e Oppizzi. Per i biancorossi una vittoria preziosa per la classifica. Sono 23 punti ottenuti e decimo posto. Per la Sancataldese invece è una sconfitta che non preoccupa, ma che certamente dovrà essere dimenticata a partire da domenica prossima, quando al Mazzola arriverà il Lamezia Terme. Prosegue intanto il monologo del Catania, che continua la sua marcia trionfale verso la Serie C. Ieri al Massimino il Licata si è dovuto arrendere alle quattro reti di Sarao e compagni. In coda si segnala la vittoria della Cittanovese contro il Real Aversa e il blitz della C-Reale in casa della Mazzia Terme. Questi risultati la classifica dopo la ventesima giornata del campionato di Serie D, Girone I. Castrovillari-Vibbonese 0-1 Catania-Licata 4-1 Cittanovese-Real Aversa 1-0 Lamezia Terme-Città di Acireale 0-1 Locri-Ragusa 6-1 Paternò-Trapani 0-0 Mariglianese-Sanluca 1-4 Canicattì-Sancataldese 1-0 Città di Sant'Agata-Santa Maria-Cilento 5-2 Per una classifica che vede il Catania sempre più in fuga a 51 punti seguito dall'Ocri a 37 Lamezia Terme 36 Città di Sant'Agata 35 Vibbonese 34 Licata 32 Trapani 28 Santa Maria-Cilento e San Cataldese a 25 punti Canicattì-Sanluca-Città di Acireale 23 Ragusa Calcio 22 Cittanovese-Real Aversa 21 Castrovillari 20 Paternò 16 Chiude la Mariglianese a 11 punti Per il Castrovillari e il Canicattì una partita in meno